Che bel panorama che si è da qua, Los Angeles, il mare, quella montagna inutile, molto bello Ah ma, 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 ma frega, stiamo registrando, Rocky ma, ma, vabbè, bella ragazzi, si, 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 stiamo registrando Ma da dove sono arrivati questi? Eramo tutti tranquilli, eravamo tranquilli quando arrivano Bella raga e bentornati a questo video, io sono Syncro, io sono Rocky E oggi stiamo qua per modificare il maggiorino Allora, l'intro l'avevo già fatta prima, ma ho filato, quindi vi dirò in poche parole il tutto Perché lui ha eliminato la clip dove sta fatta l'intro, quindi... E certo, vabbè, comunque ragazzi, stavamo facendo l'intro e è andata male Però comunque il video è molto bello, l'abbiamo già registrato, quindi vi consiglio di guardarlo fino alla fine E lasciare un bel like E niente ragazzi, cioè, vi lasciamo con le cinematiche del maggiorino prima della modifica e niente Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ragazzi, eccoci qua, guardate che belle macchinine Sono molto carine E niente, adesso passiamo alla parte della modifica del veicolo Insieme a Rocky Allora ragazzi, innanzitutto Vi diciamo già che faremo split screen e modificheremo contemporaneamente Almeno arriverà più figole, aspetta Ho già su passi decorativi, allora Vai, vai, vai Cofano, vediamo Eh, in realtà io la linea, non so se lasciarla Eh, pure io, guarda Vabbè, per ora la lascio, poi si vedrà Ma che cacchio suo, ti farei verdi What up? Beh, così mi piace Caspis c'è Vabbè, non ti riesci a lasciare così Io non vi tolgo il paramorti però Ho detto questo, questo è bello, ragazzi, questo è bello Allora, vabbiamo qua Ok, si può... Uh, ok Eh, però, fanno un po' sospetto Ah, no Giusto Non me la acquisto Ritolo 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 Ok, io le ruote, ragazzi Io metto diverse Ma gli scuola allargare un botto, eh Mi farò a fangolterire C'è messo quello allargato, c'è messo Però... Sto pensando... Vabbè, le ruote non le cambio Cerche uniti, i messaggi li cambio Sto pensando Vedo un po' lei, Rocchi Questo cosi ci sta un botto Io sono tipo alle minigonne Ah, ok Questo non si accia Vabbè, provo a mettere cosi Allora, ragazzi Poi comunque diteci anche Nei commenti cos'è che vorreste vedere Cioè, che auto vorreste che modifichiamo Ovviamente stanno per uscire la DeLorean E anche kit di un film di una serie tv Mi piacciono un botto, quindi, ovviamente, quelle ve le porteremo Sicuramente Perché le amiamo quelle due autole È vero Non riesco a capire cosa cambia Ah, questa... Una cosa? No, no, no Nel parafango posteriore Oddio Cos'è sta roba? Quei due cose che appaiono dietro Nella lettone posteriore Che a lettone è strano Ah, io non lo so, io sto ancora... Seee, vabbè Ragazzi, che esagerazione Ma, gli a lettori che sa Sto veicolo sono troppo esagerati Io sto pensando di mettere il secondo Quelle tipo di... Un po' Quelle con cui Sono carini Cioè, non sento neanche... Cioè, non c'è questo qua che è una cosa più esagerata Nel mondo Infatti, io direi o quinto O se no ti può mettere il secondo Che non è male Quindi sa che vado di secondo, sai O il terzo anche Una cosa meno stile sto veicolo, cioè Guarda tipo anche nello stile 1 Vedi una scritta Volkswagen Che sul retro È tipo storti e mezzo Potremmo mettere la tipo fatta bene sopra Tipo sopra cosa che c'è sopra la targa Somma, rendeva meglio Era pocarina Io non so cosa mettere Io non so cosa mettere Sa che io so E se io si mette questo Vabbè, oh, volete la cosa esagerata per il video Lo faccio per voi, ragazzi Ricordate Sminchi i miei soldi per voi Vabbè, sai cosa faccio Mettiamo il 5 O mio Dio, cosa sto per fare Ora io metto il 5 Mettimi che c'è un botto il 5 Sto pensando nel 5 O io lo metto, basta L'ho fatto Io lo messo E fa laurti come Oh, ce ne sono ben 18 ragazzi Vediamoli Chi è sto pipone in mezzo Oh, la madò Madonna Madonna Cos'è quel cosa Ma guarda il 6 Anche il 16 Che cacchio ha storto Io sopporto il 3 O il 16 Ah, che era carino Anche se un po' esagerato il paraurti Ma io mi sa che lo metto un pochino più Eh, oh, intanto Tanto almeno il mio veicolo è già stato Sputterato Non ho molto da perdere, ragazzi No, io non voglio togliere il paraurti Io non metto quel marmittone strano Vabbè, mi sa che vado di Di 6 a caso per trovare Anche se hai due faretti Già, alato In termini Mi sa che glieli faccio così Io ho grigi, giustante perché la macchina è grigia Le faccio tipo quel gianzogno allo finale Oh, carino Che strano la vita di questa macchina Ok, io l'ho modificata Tipo è spazzuola Ma sì Questa è inizia Se, 2000 per togliere la linea Ma che cacchio del brutto Vabbè ragazzi, no La lancio perché No, Rocky Cosa? Lo faccio Io lo faccio, eh Cosa vi diciamo? Ci vediamo alle cinematiche delle auto modificate All alone, call my phone, make me feel right Girl, you know, when you call, make me feel right Eccoci Sto inizando la garocca Partiamo ultimi come al solito, ovviamente Eh sì, infatti, ma è una gioia Mi c'è in pelo Però da ultimi Bisogna arrivare per ieri Guarda, abbiamo fatto il panino Oddio Veloce Oh mio Dio, ma è veloce Ma è molto più veloce di altre? No, non ci credo, raga È più veloce di uno CT3 È più veloce di uno CT3 È più veloce di tutte le mie auto Tipo normali, diciamo Cioè, di una maggior parte Dovremo provare fare le drag race Anche tra alcune Eh, ci sarebbe Eh, ragazzi Ci vuole anche Tipo un video Facciamo tipo Delle gare drag race Tipo Per provare Potremmo farle Infatti Vedo che è una buona accelerazione Infatti è bella Sembra leggerissima Ma cavolo Ma ha una bella guidabilità Eh Sono serio Ci stavano Cioè, scoprirà meglio che altre auto Ed è strano Sbattolo come un leso contro Il carter Vabbè Dettagli Ovviamente Sotto nei commenti Ragazzi Dovete dirci Chi ha fatto la macchina migliore È vero Anche se io Ho fatto molto Cioè, non l'ho presa Già ho fatto L'ho fatta io Sì, sì Ma diciamo che Rocky Si merita un po' di più Perché almeno Ci ha provato A farla da solo Ah, io sì Ci ho provato a farla Per bene Dunque raga Prossimamente Se riusciremo anche A prenderci entrambi Formula 1 Potrebbe riuscire Vito pure Quello Per il seguito È vero Giusto Io non ho ancora Sbagliato una curva Almeno credo Non mi ricordo Non ci sto dando Molto Cioè, non ci sto dando Molto caso Comunque Sto trovando bene A guidarla Serio Pur io È bellissimo È vero Ci sta un botto Tipo quando ho visto Le video In generale Cioè Non mi aspettavo Fosse così veloce Davvero Comproverto Una cacata Poi almeno A quest'auto Rispetto alle altre Abbiamo fatto un rumore Un pochino più diverso E' un al solito rumore Quale Alla De qui Sto è vero Tutto robotico Oddio ma sei qui What? Oddio Si è levato Di un pelo Ragazzi Oddio No Secondo Di pochino Bella combattuta Ma che è bella Tutto sommato ci è piaciuta Comunque ragazzi Se il video vi è piaciuto Dicelo nei commenti Diteci Chi è che l'ha modificata meglio Come ha già detto prima Rocky E niente Dicete un bel like E noi ci rivediamo al prossimo video Si commentate Iscrivetevi Ciao belli Ciao Ciao!